ragazzi questo è un posto meraviglioso qui siamo in mezzo al nulla sullo sfondo non si vede ma c'è il mare ciao ragazzi alla fine sono venuto qui i sporchi a sud sono troppo frentosi qua non è grande però almeno un po ogni tanto arriva alla serie non c'è nessuno in acqua nessuno haktung becca torrici altra volta qua schiuma e schiuma non è grande però almeno stai a stare qua sotto questi piccoli tutto lì sopra non è che fa Grazie a tutti. No, dopo è ghiaccio perché mi vogliono abbonare i capelli. Oh... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.